Sicurezza, lotta al degrado e al disagio sociale, queste le tre priorità indicate dal neoprefetto di Napoli, Michele Di Bari, che comincia ufficialmente con un incontro con la stampa, la sua avventura partenopea. La giornata di insediamento dell'ex prefetto di Venezia parte di buon mattino, con l'incontro con i vertici delle forze dell'ordine sul territorio. Un passaggio informale a Palazzo San Giacomo per conoscere il sindaco Manfredi e poi via in prefettura dai giornalisti, che al successore di Claudio Palomba, chiedono subito quali saranno i primi passi. Le urgenze sono tante, a breve adotteremo degli atti, fa sapere Di Bari, che convoca per lunedì il primo comitato provinciale per l'ordine della sicurezza. Nella stessa giornata ci sarà l'incontro con il presidente della regione Vincenzo De Luca, un ultimo appuntamento istituzionale che chiuderà la fase di ambientamento. Credo che è sotto gli occhi di tutti che la città, il territorio, ha bisogno sulla scia positiva del lavoro che ha fatto con incommiabile dedizione il mio predecessore, il prefetto Palomba. Ovviamente la sicurezza, il contrasto al disagio sociale, aumentare nei territori la vigilanza di tutto ciò che può creare progresso, sviluppo. Sono convinto che questa città che già sta facendo tanti progressi ha bisogno spesso di essere accompagnata anche attraverso le forze di polizia, che ringrazio per quello che stanno facendo, le municipalità, la regione Campania. La priorità non è una sola, è un atteggiamento di accompagnamento e di azione che bisogna fare perché i territori, la comunità, possano sempre crescere. La crescita di una comunità viene attraverso la sicurezza, attraverso il lavoro, attraverso anche le tante agenzie educative che si sforzano di accompagnare i giovani verso percorsi di attenzione, di legalità, perché la grande scommessa riguarda proprio i giovani e tutto ciò che può accadere nel futuro. Una città vive dell'oggi ma deve vivere soprattutto del futuro. Quale rapporto si aspetta con il sindaco e con il governatore di Luca lunedì? Quale è la collaborazione? Io sono convinto che sarà un'ottima collaborazione perché persone che stanno amministrando con grande dedizione, sia la municipalità, sia la città metropolitana di Napoli, sia il governatore di Luca e la regione Campania, con persone che hanno a cuore la buona sorte delle comunità amministrate.